Il cito l'uva l'euro, che sei morta l'euro, la canta che appuntò, che è la tua. E' un montalase che resta un piede, che ha l'opensato, che sta percorrere. E' un choc'immo da un'ape, che è un choc'è l'osso da un piede, a fontana che può, che è una caratteristica. E' un', e' un'azienda, e' un'azienda. E' un'azienda, e' un'azienda, e' un'azienda. E' una caratteristica del mondo, che è un'azienda. Grazie a tutti.